ciao ragazzi in questo video parliamo di instagram naturalmente utilizziamo la versione per il computer quindi niente versione cellulare vediamo come caricare facilmente un file tramite il computer in pratica evitando di caricare le foto dal cellulare ecco questo è il mio profilo niente di straordinario come vedete per ora la versione è sempre quella classica cioè dal computer non si può caricare le foto non è la versione mobile cliccando con il tasto destro andiamo su ispezione vedete che è già cambiato l'interfaccia clicchiamo qui su l'icona del cellulare allora così è la versione desktop cliccandoci si apre la versione per cellulare clicchiamo qui sulla rotellina per ricaricare la pagina ed ecco qui come vedete spuntate sono spuntate ulteriori opzioni per caricare le foto eccetera non fate caso al mio desktop che chiaramente è incassinato ok andiamo su immagini disegni io in questo caso ho i segni png ed altri formati li ho tutti qui e qui ci sono tutti i disegni basta cliccarci sopra in caso poi come vedete la versione preferita di instagram per i file è la versione gpg come formato se poi cliccate su un formato differente cioè il formato png caricherà la foto con i bordi neri come in questo caso quindi è preferibile caricare le foto con il formato gpg fate particolare attenzione a questa cosa e niente questo è come caricare le foto su instagram dal computer alla prossima